Facciamo insieme la candeggina naturale, ovvero la vecchia lisciva. Abbiamo bisogno di cenere, semplicissima cenere di legna, meglio ancora se di urivo. Prendiamo la cenere e mettiamola in un setaccio. Meglio è un setaccio finissimo. Così tutti i residui di carbonio rimangono nella retina. Ed ecco la nostra cenere. Mettiamo due misurini da un litro di cenere in una pentola di acciaio. Questa dose è molto importante per la riuscita della candeggina. E la pentola deve essere di acciaio, altrimenti si buca. Chiudiamo la pentola con il coperchio di acciaio. Ed aggiungiamo alla cenere, adesso, dieci misurini da un litro di acqua. Anche questa quantità è molto importante per l'ottima riuscita della candeggina. Praticamente la proporzione è uno su cinque. E cioè, se uso uguale quale misurino, ogni uno di quel misurino deve essere riempito poi con cinque litri di acqua. Mescoliamo la miscela. E mettiamo sul fuoco. Lasciamo cuocere a fuoco alto. Io uso volentieri la stufa della nonna, perché è a costo zero, sia per la materia prima, la cenere, che per la cottura. Mescoliamo di tanto in tanto. Dopo circa un'ora si forma una schiuma sopra. È buon segno. Dopo circa un'ora e mezza comincia a bollire. A questo punto, metto la cucchiaia di legno a traversare, appoggio sopra il coperchio e lascio cuocere per due ore, due ore e mezzo, sempre a fuoco alto. Dopo circa due ore, ecco il nostro preparato. Ha evaporato abbastanza. Adesso arriva la prova del nove. Bagno il cucchiaio di legno nella lisciva e la vado ad assaporare con la punta della lingua. Deve pizzicare. Allora sì, è buona. Tolgo la pentola dal fuoco e la vado a posare in un posto, lontano dalla portata dei bambini. Lascio riposare tutta la notte, almeno dodici ore. Il giorno dopo, ecco come si presenta la nostra lisciva. È pronta per essere travasata. Io uso un metodo semplicissimo. La prima, con attenzione e con delicatezza, la verso direttamente in un contenitore di riciclo. La seconda versata, invece, mi adopero di uno strofinaccio in cotone tale da filtrare la cenere. La cenere compatta, quella rimanente sotto, io la conservo perché è ottima per pulire le pentole. L'altra non mi dispiace se devo buttarla, tanto non mi è costata niente. E pulisco subito la pentola. Ed ecco la nostra candeggina, ovvero la vecchia lisciva, naturale, ad impatto zero. Ottima per pulire piastrelle, ceramica, legno, acciaio, alluminio, plastica, tutto ciò che avete in casa. È un vero tornato. Per l'igiene di casa è bucato. Come vedete, io la uso semplicemente a mani nude. E la respiro senza candeggina. Toglie lo sporco più sporco. Ed io personalmente la uso anche per il bucato in lavatrice. Rubinetteria, bagno, WC. Basta passarla pura su determinate superfici. Asciugare con un panno di stoffa Oppure usare semplici tovaglioli di carta. Ed il gioco è fatto. Abbiamo la casa sempre splendente ed igienicamente pulita. Non usate molta di questa candeggina perché ha un alto contenuto di cloro. Per accertarvi potete farla analizzare. Grazie. 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 Grazie.